Beh ragazzi siamo i gran... E questo qua ride sempre come ha inizio Vabbè siamo qui con questo vlog al volo E' proprio molto professionale Perché ci siamo ridotti all'ultimo secondo per fare il video Questo qua non si è accorto che non aveva Da televisione dovevamo fare un gameplay Vabbè comunque tutti i cazzi E niente ci siamo accorti all'ultimo Che non potevamo fare niente Sono le 6 Sono le 6 E mi fa male il braccio per reggere il cellulare E quindi noi al volo che stiamo facendo questo vlog Penso uscirà fra tipo una mezz'oretta E niente tutto per augurarvi Buonanotte di San Silvestro E' vero oggi è San Silvestro? No domani è San Silvestro Vabbè comunque Buonanotte tutto quanto Buon Capodanno Buonanotte non andate a dormire presto Noi adesso siamo Umbriacatevi Noi siamo bene Penso che faremo una foto a mezzanotte E' vero E quindi niente Oti al volo giusto per augurarvi Buon Capodanno Gli sta a fammare la mano Un minuto Non monetizziamo il video Perché tanto Se no poi c'è dei chichi Un minuto per monetizzare Non monetizziamo un cazzo E buon Natale Buon Capodanno Bella Bella Buon Capodanno Buon Capodanno Buon Capodanno